senza la cessione del credito il 99 per cento dei contribuenti è fuori dal super bonus tra poco ti dirò ti tradurrò in numeri quello di cui avevo già parlato nei miei contenuti precedenti relativi al blocco della cessione del credito dovuto alla normativa del decreto 11 non al blocco all'accesso all'eliminazione della cessione del credito dello sconto in fattura che determinerà di fatto un tornare indietro a pre 2020 per quanto riguarda la fruizione dei bonus e dove la maggior parte viste le percentuali del super bonus saranno fuori prima lascia mi piace iscriviti al canale e verifica i contenuti per gli abbonati se vuoi sostenere il lavoro che faccio online puoi abbonarti trovi in descrizione un breve video di 4 minuti dove ti spiego i vantaggi come l'accesso ai contenuti video dove rispondo alle domande analizzo casi pratici ultime notizie e accesso alle chat esclusive dove rispondo alle domande durante le dirette con un recente articolo il sole 24 ore traduce in numeri ciò di cui avevo parlato nelle settimane precedenti e cioè delle conseguenze dell'eliminazione della cessione del credito dello sconto in fattura che principalmente per quanto riguarda il super bonus determinerà un inapplicabilità nella stragrande maggioranza dei casi e per quanto anche riguarda gli altri bonus si tornerà a una situazione ante 2020 il decreto 11 ha eliminato la cessione del credito dello sconto in fattura se non per alcune deroghe poi contenute inserite nella conversione in legge dello stesso pubblicata in gazzetta ufficiale pochi giorni fa e questo determinerà che principalmente per quanto riguarda il super bonus sarà un numero esiguo di soggetti coloro che potranno effettivamente utilizzare portare in dichiarazione perché la conseguenza è questa cioè senza cessione sconto devi portare per forza in dichiarazione il super bonus super bonus che si fruisce in quattro anni l'opzione di 10 non è applicabile visto che vale solo per le spese 2022 il che determina che una percentuale bassissima potrà usufruire effettivamente senza una perdita del credito di questa agevolazione ma quant'è questa percentuale nell'articolo viene fatto un esempio con una bifaminiale con un intervento medio di riqualificazione energetica col super bonus su una bifamiliare avviato oggi quindi con l'ipotesi di iniziare i lavori nel 2023 e completarli anche in parte nel 2023 dove nel 2024 dove la percentuale scenderà passerà dal 90 al 70 per cento il credito che la rata annuale con l'intervento medio su base dati ne ha l'intervento medio a livello nazionale su una bifamiliare la rata annuale va dai 22 fino ai 39 mila euro questo perché il 90 per cento in quattro anni determina una rata molto alta quant'è questa percentuale di contribuenti che può accedere senza perdere credito ad una rata del genere solo lo 0,9 per cento quindi il 99,1 per cento dei contribuenti è fuori o non ha capienza e lo perde tutto o ne perde una parte cioè non ha capienza sufficiente quindi l'eccedenza viene persa perché non può essere portata poi negli anni precedenti successivi anche ipotizzando che questa bifamiliare non sia di un unico soggetto ma di due comproprietari che si suddividono le spese e quindi anche il credito poi da portare in dichiarazione la situazione non migliora perché la rata annuale viene circa 20 mila euro che aumenta un po la percentuale di coloro che potranno accedere sale a poco sopra il 3 per cento che comunque significa che oltre il 96 per cento dei contribuenti non potrà accedere al super bonus o meglio perderà una parte non parliamo poi delle unifamiliari 2023 dove il risultato è impietoso a causa della del vincolo dei 15 mila euro di reddito di riferimento determina che coloro che potranno accedere con i requisiti al bonus super bonus sulle unifamiliari 2023 e portarlo in dichiarazione quindi senza cessione o sconto la percentuale sarà pari a zero ma non avendo capienza nessuna capienza il problema non è solo del super bonus si estende anche a tutti gli altri bonus 50 per cento 65 per cento 70 per cento 75 per cento perché tutti i bonus subiscono la conseguenza dell'eliminazione dell'accessione del credito dello sconto in fattura tutti i bonus potranno essere fruiti solo in dichiarazione dei redditi questi esempi con il super bonus danno l'idea del numero dei contribuenti che effettivamente potrà accedervi appieno all'agevolazione portandolo in quattro anni ma senza capienza o con una bassissima capienza il problema si estende anche a tutti gli altri sempre nello stesso articolo viene fatto un esempio in un intervento condominiale avviato oggi un intervento di 20 unità con un importo di 600 mila euro poco poco sopra i 600 mila euro in quel caso la rata calcolata dichiarata nell'articolo annuale verrà di circa 6 mila euro il che determinerà in base alle statistiche dei contribuenti che il 78 per cento non potrà usufruire appieno del super bonus non potrà usufruire del super bonus perché quando non si ha capienza si perde una parte diventa difficile poter giustificare bisogna tapparsi il naso e dire perdo una parte e lo porto comunque in dichiarazione quanti faranno questa scelta anche qui nell'esempio dell'intervento condominiale si tiene in considerazione il fatto che essendo oramai a metà anno non proprio comunque siamo nel 2023 avanzato per il 90 per cento rimane poco e si ipotizza che i lavori andranno con moltissima probabilità a finire nel 2024 le tempistiche nei cantieri sono importanti e subiscono potrebbero subire dei rallentamenti o degli imprevisti come dico sempre che non permetterà a tutti di effettuare i lavori ed eseguirli tutti nel 2023 quindi in sostanza la percentuale che potrà accedere appieno al super bonus è bassissima per gli altri molti di per molti di loro sarà una scelta di rassegnarsi a perdere un buona parte del bonus del credito maturato della rata annuale per altri invece non ci sarà possibilità non avendo capienza non si potrà accedere né al super bonus né a nessun altro bonus nemmeno al bonus casa qual è la soluzione sarebbe stata quella di mantenere la gestione del credito e lo sconto in fattura in toto bene non è fattibile ma almeno mantenerla per coloro per i redditi medio bassi altrimenti non ha senso il bonus in sé per questo molti dichiarano che il super bonus è stato eliminato anche se di fatto ancora c'è perché senza il meccanismo di gestione del credito non ha senso di esistere in realtà ad oggi non ha senso di esistere non hanno senso di esistere nemmeno alcuni bonus ordinari dall'altra parte per coloro che si sono assicurati il diritto ancora di poter accedere a cessione sconto c'è bisogno di sbloccare la situazione unicredit ha riaperto per le vecchi per i vecchi sconti in fattura del 2022 ma c'è bisogno di allargare le maglie e far ripartire il mercato per una nuova stagione di cessione del credito almeno per coloro che possono ancora accedervi e i tempi sono stretti coloro che hanno si sono assicurati il 110 coloro che hanno presentato le pratiche prima del 17 febbraio che si sono assicurati la cessione e lo sconto comunque sia il 110 per cento il 90 per cento da poter sfruttare con questi meccanismi finisce quest'anno salvo proroghe perciò non è che si possa poi attendere molto i cantieri hanno bisogno di tempo per poter essere completati comunque ne parleremo poi nelle prossime live ti ringrazio di essere arrivato fin qui lascia mi piace se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo contenuto